Buonasera a tutti, grazie per essere presenti a questa diretta e sono Ilaria Balena e prima di iniziare devo comunicarvi una bella cosa. Rimini riapre le porte del Museo della Città, della Domus, del Chirurgo e del Parth, Palazzi dell'Arte, dal lunedì al venerdì gratuitamente con due visite guidate giornaliere su prenotazione per piccoli gruppi alle ore 17 e alle ore 18. Le visite guidate sono prenotabili da domani, domenica 31 gennaio, sui siti internet palazziarterimini.it e musei comunali rimini.it e da lunedì 1 febbraio al numero di telefono 0541 79 3851. Quindi bene, insomma, riaprono i musei. Sono qui all'interno del Parth, Palazzi Arte Rimini, questo nuovo museo d'arte contemporanea che accoglie, custodisce la collezione della Fondazione di San Patrignano. E ho anche il piacere di comunicarvi che proprio a dicembre questo museo è stato nominato come miglior nuovo museo 2020 dalla rivista Art Tribune. Sono più di 60 le opere qui esposte, sono tutte donazioni, niente è stato acquisito, e donazioni da parte di grandi artisti di fama nazionale e internazionale, da collezionisti, da galleristi. E proprio per questo il Parth, questa collezione, non ha un filo conduttore, un fil rouge, proprio perché la collezione consiste da opere e da diverse donazioni. Però si percepisce un'attenzione, secondo me, una sensibilità da parte di certi donatori verso a temi sociali, comunitari, di appartenenza. E credo anche che sia giusto, dato che la collezione appartiene a una realtà fortemente comunitaria come quella di San Patrignano. E proprio per questo oggi ho deciso di raccontarvi due artisti giovani, giovanissimi, coraggiosissimi, molto famosi, popolari per la loro arte, ma soprattutto per l'impegno sociale, politico e giornalistico. Io credo che la loro ricerca artistica sia un'unione proprio tra etica ed estetica. E la loro è un'arte messa a disposizione di necessità, che sia la costruzione di una scuola in Africa o la denuncia al capitalismo, quello più distruttivo, per Ibrahim Mahama, o che sia il racconto, la necessità di raccontare il dolore e la sofferenza di un popolo senza patria, quello kurdo, per Zera Dohan. Bene. Ecco, partiamo proprio dal racconto di Ibrahim Mahama. L'opera ce l'ho qui di fianco a me. Ibrahim Mahama è un artista ganese, giovanissimo, 33enne, nato a Tamale, nel nord del Ghana, dove lì vive, lavora e progetta, a differenza di molti suoi colleghi che hanno preferito vivere negli Stati Uniti o in Europa per emergere. Ecco, lui invece è molto radicato alla sua terra e è molto impegnato socialmente. Ibrahim Mahama inizia la sua carriera artistica all'Università di Kumasi, dove si laurea in pittura e scultura, e dove ha avuto anche la possibilità di partecipare a questo collettivo importante, Black Star Line Kumasi, che è un collettivo formato da docenti universitari, da grandi artisti, affermati artisti, molto aperti alle nuove frontiere dell'arte contemporanea. E penso probabilmente proprio in questo ambiente, questo ambiente l'ha incoraggiato nella sua ricerca artistica, che è estremamente indipendente e unica. Infatti Mahama è conosciuto per le sue installazioni monumentali, per avvolgere, ricoprire grandi strutture, grandi edifici con sacchi di juta, o per creare grandi installazioni a scala, appunto a larga scala, sculture fatte utilizzando materiali di recupero, di scarto, quali potrebbero essere per esempio frammenti architettonici, cassette di legno, macchine da cucire, libri usati che sarebbero andati al macero. Ecco, per noi tutto questo sarebbero dei rifiuti, sarebbero semplicissimi rifiuti, mentre per Mahama da qui inizia un viaggio artistico, che attraverso il recupero di questi materiali, la loro lavorazione, indaga i temi più critici della sua terra, del Ghana, dell'Africa, che sono l'emigrazione di popoli, di prointeri, che sono la povertà, lo smaltimento dei rifiuti, il lato scuro della globalizzazione, quello che si nasconde dietro alla circolazione di merci e di persone. Ecco, diciamo che il protagonista assoluto poi della sua arte è sicuramente il sacco di juta, che poi adesso vi parlerò. Mahama si affaccia alla scena europea partecipando a una collettiva, a una mossa collettiva a Londra, alla SACI Gallery di Londra, che è un'istituzione per l'arte contemporanea, per poi nel 2015 partecipare alla Biennale d'Arte di Venezia e ritornarci nel 2019 come rappresentante proprio del Ghana. Partecipa anche a Documenta 14, a Cassel, ad Atene, insomma è presente negli ultimi anni nelle più importanti rassegne d'arte contemporanea del mondo. Anche in Italia ovviamente ha esposto con due personali, una a Roma, una a Brescia, ma famosa sicuramente nel 2019 l'installazione appunto monumentale che coinvolse Porta Venezia a Milano. La fondazione Trussardi lo invitò ad avvolgere appunto e ricoprire con i suoi sacchi di juta i due caselli neoclassici di Porta Venezia, appunto donandogli così una nuova pelle, una nuova identità. Come vi dicevo, Mahama è molto impegnato e molto radicato nella sua terra. Infatti proprio due anni fa, nel 2019, ha aperto, inaugurato questo grande spazio espositivo che poi in realtà è diventato anche un grandissimo luogo di ricerca per gli artisti stessi, i laboratori per le scuole, il Savanna Center of Contemporary Art. E in più dai proventi della vendita delle sue opere, dalle installazioni, dai premi, dalle mostre che fa, appunto investe moltissimo appunto nella sua terra, nella sua tamale e sta costruendo scuole, laboratori, addirittura piantagioni di coltivazione di piante indigene, di piante locali. Insomma, si sta dando veramente molto da fare. Tanto che l'anno scorso è stato nominato come il settantatresimo uomo africano più influente nel mondo, proprio per la sua arte, la sua arte sociale. Ecco, protagonista, come vi dicevo prima, assoluto, dei suoi lavori è sicuramente il sacco di Utah. Perché? Perché nel Ghana è oggetto di scambio quotidiano, lo si trova nei mercati, lo si trova nelle case, lo si trova nelle botteghe. In realtà è un po' il simbolo dell'economia del Ghana, della fragile economia del Ghana, è basata sulla produzione di fave e di cacao, di cacao, e questi sacchi vengono riutilizzati in tantissimi modi diversi, diventano oggetti multifunzionali, possono contenere tantissime cose da altro cibo, da carbone e possono essere utilizzati appunto per coperture. Ecco, ma ama questi sacchi riutilizzati, timbrati, marcati, lacerati, ricuciti, ecco per lui invece racchiudono un significato più nascosto, quello che riguarda lo sfruttamento della forza lavoro che c'è dietro, che si cela dietro alla circolazione appunto di merci e di persone. E per l'Africa è da sempre simbolo direi di conflitti, di drammi appunto che si consumano dietro a quello che è l'economia appunto globale. Tra l'altro ma ama, e questo mi sembra anche molto bello, lui considera le sue opere assolutamente collettive, nel senso che nei suoi laboratori a Tamale, nei suoi studi, riunisce moltissime donne soprattutto, ma immigranti, a volte proprio senza documenti, senza diritti, che arrivano dai villaggi appunto della savana e lui li riunisce per cucire questi sacchi di juta che poi diventeranno appunto le sue installazioni. Ma ama non lavora ovviamente solamente appunto con queste grandi installazioni, ma si occupa anche di video, di disegno e di fotografia. E qui infatti abbiamo, qui al parte, siamo fortunati di avere una sua fotografia, che in realtà fa parte di un progetto più ampio appunto dedicato a quello che appunto si nasconde tra quello che si cela, tra la circolazione di merci e di persone. Ecco, questa fotografia si chiama Samsa, è intitolata Samsa, e Samsa lo leggete proprio qui sull'avambraccio, questo è l'avambraccio di Samsa. e Mame è molto interessato a come macchie, scritte, tatuaggi, timbri, si accumulino sia su un corpo che sia su un oggetto, perché lui dice raccontano una storia. Ed è vero, infatti qui si racconta una storia di due pelli interessate da cicatrici, come le chiama lui, queste scritte, questi timbri, questi tatuaggi. E allora qui abbiamo una pelle, una pelle che è il sacco di juta, e sappiamo che ci racconta che questo sacco di juta viene fabbricato in India, dove spesso sono fabbricati nel sud-est asiatico, in Bangladesh, in India, viene importato dal Ghana e poi riempito di cacao, trasportato, esportato in giro per il mondo. E poi abbiamo invece un'altra storia, la storia di un'altra pelle, quella di Samsa. E Samsa è la trasportatrice di questi sacchi di juta. Come molto spesso in Africa, sono proprio le donne che trasportano appunto questi, da braccianti trasportano questi sacchi. e molto spesso queste donne che non hanno neanche i documenti, si tatuano proprio sul braccio il loro nome, il nome del parente più vicino, il nome del villaggio, proprio perché durante i loro percorsi, anche molto lunghi, nei loro tragitti, potrebbero ovviamente incontrare degli incidenti, potrebbero incontrare la morte, che in Africa in realtà, sulle strade africane, nei cantieri, in Africa è molto frequente. Quindi per essere riconosciute. Ecco, Samsa è una trasportatrice. Samsa ha viaggiato dai villaggi del nord del Ghana, dove Moama vive, per andare verso sud, verso la capitale, Accra, che da lì parte tutto poi il commercio, come bracciante per cercare lavoro. Ecco, un po' questa immagine di questo braccio tatuato mi rimanda in realtà a una situazione nostra, attuale, sia europea che italiana, del Mediterraneo. Cioè mi rimanda un pochino ai nostri emigranti che attraversano il mare, sui barconi, in cerca appunto di una nuova terra, ma che spesso loro, anch'essi, hanno scritto la loro identità sul corpo, con un penarello, con un tatuaggio, per essere riconosciuti appunto in caso di scomparsa. E allora penso anche che questa fotografia in realtà così semplice d'impatto, perché è una fotografia semplice, è un sacco di juta, è un braccio, in realtà nasconde un messaggio così complesso, così potente, un messaggio di un grido verso l'inuguaglianza sociale, proprio allo sfruttamento del corpo. E ora passiamo all'opera di Zera Dohan, ma prima vedrete un piccolo tour virtuale attraverso il part. Grazie a tutti. 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 E siamo qui di fronte all'opera di Zera Dohan. Allora, Zera Dohan nasce a Diyarbakir, in Turchia, a 30 chilometri a nord dal confine con la Siria, ha 31 anni, ed è un'artista, una giornalista, un'attivista, una femminista kurda di cittadinanza turca. Zera. Zera si laurea in arte e design, ma con una grandissima vocazione per la verità, per il giornalismo. e infatti solamente nel 2012, e aveva solamente 22 anni, 23 anni, fonda e dirige Jina, un'agenzia stampa kurda, interamente costituita da donne, fortemente impegnate nella politica, nel sociale e soprattutto nella politica, fortemente impegnate come attiviste per la causa kurda, per le minoranze etniche, per la condizione delle donne così difficile anche nelle loro zone. E infatti Zera sarà una delle prime a documentare le persecuzioni, i rapimenti, gli stupri subite dalle donne yazide, questa piccola minoranza etnica, dall'isis, dal califato, durante la guerra in Siria e in Turchia. Tra l'altro per questo vincerà anche un importantissimo premio in Turchia. Zera nel 2016, il periodo del colpo di Stato nei confronti del governo di Erdogan, si trova a Nusaibin. Ecco, Nusaibin è questa piccola città turca ai confini proprio con la Siria, prevalentemente abitata da kurdi. Ecco, questa città è stata bombardata, massacrata, ridotta in macerie per mesi, giorni interi di bombardamenti. I giornalisti non possono, bombardamenti delle milizie ovviamente turche, i giornalisti non possono entrare a Nusaibin. Lei ci va, lei deve testimoniare e far rendere conto al mondo quello che sta succedendo. In questo periodo lei vivrà anche in situazioni piuttosto precarie, dovrà nascondersi sotto i bombardamenti, ma lei riuscirà comunque a testimoniare, prendendo dai racconti delle persone, dalle lettere dei bambini, di una bambina in particolare, insomma, raccoglie informazioni. Cosa succede? Succede che un giorno trova sull'account di Twitter delle milizie turche un'immagine, una fotografia di Nusaibin completamente ridotta in macerie, con cararmati, bandiere turche appese agli edifici distrutti. Ecco, lei prende questa immagine, sotto dei commenti, ecco, questo sotto dei commenti esultanti e vittoriosi di questa distruzione. Lei prende questa immagine, ne farà poi un disegno, la ripropone come disegno, cambiando un pochino il punto di vista, facendola un pochino sarcastica, nel senso i cararmati diventano degli scorpioni che mangiano le persone, enfatizza il colore rosso delle bandiere turche appunto sugli edifici distrutti. Scansionerà questa immagine, la posterà su Twitter e questa immagine farà il giro del mondo. Addirittura verrà nominata questo dipinto, questa opera, verrà nominata la Ghernica turca. Ecco, però, questa immagine, questo dipinto per Zera sarà la sua sentenza, perché Zera verrà prelevata e verrà condannata per propaganda terroristica. Verrà condannata per due anni, nove mesi e 22 giorni e gli sconterà tutta questa sentenza appunto per aver diramato una fotografia. Ovviamente l'essere donna, l'essere artista e soprattutto il concorso e anche l'essere giornalista aggravò molto la situazione. Insomma, Zera questi due anni, nove mesi e 22 giorni di detenzione li trascorre in tre carceri diverse in Turchia, a Mardin, a Diyarbakir, a Tarso e uscirà da Tarso solamente a fine febbraio del 2019. Zera dice, proprio dice in un'intervista, io sono stata condannata per due anni e dieci mesi solamente per aver dipinto bandiere turche su edifici distrutti. Ma è stato il governo turco a fare tutto ciò. Io l'ho solo dipinto. Ecco, Zera si esprime con la sua arte, rivendica le sue idee. È sicuramente una donna ribelle, è una donna disubbidiente e questo ovviamente il governo turco e i tribunali turchi non possono ammetterlo. Tra l'altro viene imprigionata, incarcerata, condannata con delle prove quasi inconsistenti. Appunto parliamo di un disegno, parliamo di qualche testimonianza, di una lettera di una bimba turca che racconta appunto le sofferenze, le morti e le disgrazie di questi bombardamenti. Ma siamo nel momento del governo di Turco, di Erdogan, che ha messo a tacere moltissime menti libere e quindi moltissimi scrittori, moltissimi giornalisti, avvocati, docenti universitari, deputati, sono stati incarcerati per aver espresso le proprie idee e tantissime donne. Zera in carcere incontrerà molte di esse che diventeranno compagne, che diventeranno amiche e che la sua battaglia non sarà più una battaglia indipendente, ma diventerà poi invece una lotta collettiva. A Zera in carcere le vietano assolutamente di dipingere, le sequestrano tutto, i materiali, i pennelli, i colori, le stracciano davanti agli occhi, le bruciano davanti agli occhi quelli che trovano, che riescono a trovare. Ma Zera resiste, Zera combatte con la pittura. Più le dicono di non dipingere, più lei invece lo farà e troverà tecniche nuove per farlo. Infatti imparerà per esempio a disegnare, a dipingere sotto il letto, sotto la rete del letto o in quei piccoli pertugi, in queste carceri sovraffollate appunto di donne. Riuscirà a disegnare con una penna, con le penne biro, ma i pennelli non li ha più e i pennelli diventeranno le ciocche dei suoi capelli, delle sue compagne, diventeranno le piume d'uccello che entrano dalle finestre, i colori, i colori diventeranno i residui di cibo che possono essere di tè, di caffè, di curcuma, di rucola spezzettata, addirittura per fare il rosso di sangue mestruale. Insomma, Zera si ingegna e disegnerà ovunque può, sulle cartine delle sigarette, sulla carta igienica, sulla carta da giornale, sui tessuti, qualsiasi tipo, asciugamani, lenzuola, vestiti, addirittura Zera disegnerà sul corpo delle sue compagne di carcere che a breve sarebbero uscite. E queste, una volta fuori, hanno fotografato il disegno e l'hanno custodito e poi l'hanno consegnato a Zera nel momento della sua liberazione. Ecco, noi abbiamo la fortuna che queste opere del carcere possiamo vederle e può Zera stessa vederle perché Zera riuscì a far uscire clandestinamente, facendosi beffa anche delle guardie del carcere, riuscì a far uscire più di 300 opere. Non dichiarerà mai, apertamente, come. si suppone attraverso la lavanderia, forse nascoste nelle divise da lavare o aiutata da qualche parente. Addirittura in carcere riuscì a fare una mostra perché poi lei fece anche dei laboratori d'arte per le sue colleghe in carcere e fece una mostra nella lavanderia appendendo le opere con le mollette e i fili. Addirittura, dato che insieme a lei c'erano appunto intellettuali, giornaliste, deputate, riuscirono a scrivere un giornale interamente scritto a mano e dipinto da Zera. Siamo appunto in quel momento che Erdogan, il governo turco, chiuderà moltissime testate giornalistiche. Jina stessa, la sua agenzia stampa, verrà chiusa. Ma moltissimi giornali delle minoranze etniche e soprattutto quelli kurdi furono appunto chiusi e loro in carcere ne aprirono e ne fondarono un altro di giornale. Insomma, Zera, dopo 1022 giorni di carcere, ora viaggia libera. Direi più o meno libera perché su di lei comunque pesa ancora una condanna per propaganda terroristica. Ma lei si descrive in un bellissimo termine secondo me, lei si sente una nomade europea. Forse anche ovviamente con dietro un'enorme tristezza per non essere riuscita ancora a ritornare in Kurdistan ma forse in realtà in questo momento è in Kurdistan. Durante questi ultimi due anni appunto è stata aiutata, è stata portata appunto in Europa da un cordone umanitario. moltissime associazioni sia quando era in carcere che fuori dal carcere hanno dato tantissima solidarietà a Zera. Molte associazioni internazionali più che nazionali ovviamente turche per esempio Amnesty International Penne e soprattutto un'associazione kurdo-francese Kedistan che con lei per tutto il periodo del carcere si sono scambiate lettere. C'è un bellissimo cartiglio che è stato pubblicato proprio l'anno scorso nel 2019 è diventato un libro e poi istituzioni museali come la Tate Modern insomma lei in questi due anni qui in Europa ha fatto vedere il suo lavoro si è espresso ha continuato la sua arte politica ha vinto premi giornalistici e artistici che lei considera tra l'altro la stessa cosa in un'intervista si è definita un art reporter dietro dietro appunto ogni suo disegno c'è una notizia c'è una verità e tra l'altro artisti l'hanno sostenuto importanti come Ai Weiwei Banksy Banksy nel 2018 quando Zera era ancora in carcere le ha dedicato un enorme murale a Manhattan il Bowery Wall insomma è veramente sostenuta moltissimo tra l'altro anche l'Italia l'Italia ha avuto un ruolo importante molto importante soprattutto la città di Brescia che l'anno scorso tra il 2019 e il 2020 le ha dedicato una personale con tutte le opere dal carcere al museo di Santa Giulia è stata la fondazione appunto Brescia Musei con la cura di Elena Stambulis che ne ha curato una bellissima mostra e che ne ha segnato probabilmente anche il successo appunto in Italia il farsi conoscere in Italia e in Europa insomma Zera io sono molto contenta di parlare di lei e soprattutto sono molto contenta che un'opera sua sia proprio qui al PART tra l'altro la notizia proprio di poco tempo fa che ho scoperto è che circa 15 giorni fa Zera è stata nominata dalla rivista Art Review in questo progetto importante che si chiama Art Power 100 è stata nominata tra le 100 personalità nell'arte più influenti quelle che contano quindi molto contenta ecco qui abbiamo una sua opera che non fa parte delle opere dal carcere ma è un'opera che lei ha realizzato proprio qui in Italia a Roma nel 2019 si intitola l'arca di Noè e infatti descrive racconta appunto di un naufragio di emigranti in una notte di tempesta nel Mediterraneo e quest'opera è stata proprio dedicata a loro ce la dedica dietro alla tela dedicata a loro e dedicata a tutti coloro che si occupano alle organizzazioni umanitarie che si occupano nella salvezza nell'aiutare queste persone appunto in mare per questa opera Zera ha utilizzato un penarello nero e degli acrilici per sfumare di grigio e di azzurro e proprio questi tratti di penarello nero così veloci così grafici diciamo rappresentano l'aggrovigliarsi di questi corpi queste donne queste madri che si attorcigliano si avvinghiano a questi figli e rappresentano in maniera così potente la sofferenza il dolore la solitudine la paura il dramma di questi emigrati in mezzo al mare ecco nelle opere di Zera sia quelle dal carcere sia quelle che ha fatto successivamente sia nelle performance che sta continuando a fare in giro ecco spesso il soggetto è proprio la sofferenza l'ingiustizia il dolore il soggetto è spesso anche la donna ma dietro a tutto ciò c'è comunque una speranza un inno comunque a un'arte resistente comunque appunto a resistere al combattere a combattere appunto le ingiustizie al centro c'è questa figura questa figura questa donna spesso lei dipinge donne raffigura donne e donne spesso con questi grandi occhi con questo sguardo ben aperto e questa donna ha i capelli lunghi ecco questa mi fa venire in mente Zera stessa perché Zera è una ragazza che ha dei bellissimi lunghissimi capelli neri e cosa vuol dire anche questa apertura di occhi è come se chiedesse allo spettatore a noi di aprire lo sguardo di guardare avanti di avere attenzione di non essere superficiali di vedere che ci sono nel mondo anche le ingiustizie e di esserne consapevoli ecco Zera quello che però per me è assolutamente straordinario vedendo quest'opera da vicino è il suo tratto grafico è questo pennarello appunto che scorre in una maniera velocissima non ha ripensamenti non torna mai indietro non ricalca mai lei va dritta e penso che sia proprio anche la sua personalità cioè Zera è una donna che guarda avanti che non torna indietro che deve combattere in un certo senso e quindi questo tratto è veramente incredibile Zera non la si può secondo me mettere in nessuna corrente artistica non la si può mettere in nessuna avanguardia Zera è Zera forse ma questa è una mia idea un pochino personale è quella che io ci vedo il sapore dell'arte popolare medio orientale quella però dei suoi tessuti quella delle sue trame dei tappeti della grafica appunto di quelle zone però Zera è essenzialmente lei con quella sua potente e coraggiosissima capacità espressiva io vi ringrazio moltissimo e soprattutto ringrazio i ragazzi di San Patrignano qui dietro di noi Alex e Domimo perché hanno fatto un lavoro meraviglioso sono molto contenta che da lunedì voi possiate ritornare in museo perché riaprono e informatevi attraverso i siti attraverso appunto il numero di telefono del museo e i siti museali e grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille